Primo dicembre de Il giornalino di Gianburrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gianburrasca, di Vamba. Primo dicembre. Sono due giorni e due notti che i miei genitori sono partiti e non ho fatto altro che pensare alla bicicletta. Questa volta sono proprio sicuro d'acchiapparla. Oggi è stata una giornata veramente di paradiso. Tiravo un bel venticello fresco che mi ha fatto venire la voglia di andare a pescare, badando bene però di non affogare, come mi successe l'altra volta, se no addio bicicletta. Dopo scuola sono andato a comprare una lenza nuova, degli ami, e mi sono avviato in riva al fiume. Da principio non venivano sucche delle erbacce, poi ho preso due ghiozzi, che sono svizzati un'altra volta nell'acqua. Ma verso buio ecco un'anguilla vera, grossa come un coccodrillo! Che dovevo farne? Naturalmente l'ho portata a casa per mangiarla domani mattina a colazione, e per divertirmici stasera ho pensato di metterla per benino sul pianoforte in salotto da ricevere. Dopo pranzo Caterina ha acceso i lumi in quella stanza, e mia sorella è scesa giù, e si è messa a suonare e cantare la solita romanza che canta sempre e che comincia «Nessuno ci vede, nessuno ci sente». A un tratto ha dato un gran durlo. «Ah, una vipera! Uh, ah, uh, i, eh!» Che urli! Il fischio della locomotiva non c'è per niente a paragone. Io sono subito corso in salotto per vedere quello che era successo. Caterina pure è a corsa, e abbiamo visto Virginia che si contorceva sul canapè come un cane arrabbiato. «Scommetto che c'è qualcosa sul piano», ho detto a Caterina. Caterina si è avvicinata al pianoforte per vedere, e poi via, con un balzo, è corsa alla porta di casa urlando «Aiuto!» Allora ha incominciato a entrare in casa la gente del vicinato, e tutti, appena dato un'occhiata al pianoforte, a urlare come disperati. «Ma se è un'anguilla!» ho detto io, stanco finalmente di tutte queste esagerazioni. «Che cosa, che cosa?» hanno domandato tutti in coro. «È un'anguilla innocente!» ho ripetuto, mettendomi a ridere. Le donne sono proprio sciocche di buttare all'aria la casa per un'anguilla, che poi mangiano con tanto gusto quando viene portata a tavola cucinata e condita. Mi hanno detto che sono cattivo per aver fatto spaventare Virginia. Si sa, è sempre la medesima storia. Anche se ho la disgrazia di avere una sorella che non riconosce un'anguilla da una vipera, la colpa deve essere sempre mia! Fine del primo dicembre Allora, si sia, è una teoria che non riconosce un'anguilla da un'anguilla da un'anguilla da un'anguilla da un'anguilla. Grazie a tutti